Presidente Walter Taccone, grazie per la disponibilità, abbiamo creato questo appuntamento abbastanza cordiale, un filo diretto con i tifosi, ci manca un piatto di pasta, ci manca qualche cosa, poi a tavola possiamo... e quindi i tifosi le hanno inviato queste domande attraverso di social network, facebook, twitter, l'hashtag AskTaccone, quindi dedicato AskTaccone, tantissime le domande che ci sono arrivate, argomenti sono vari, quindi io mi addentrerei nella discussione. Lo facciamo per argomenti o facciamo spot? Lo facciamo per argomenti. Se le domande sono le stesse, non mi farei dieci volte la stessa domanda. No, no, le ho raggruppate. Cioè risponderemo a tutti uno per uno, per carità, però insomma se le domande sono simili cerchiamo di dare una risposta unica. Sì, le ho raggruppate per snellire un po' questa chiacchierata. Perfetto, Tesser, l'argomento caldo, allenatore, quindi si parte da qui chiaramente. Siamo a fine stagione, l'avellino è salvo. Allora io inizierei. Michele Spiniello ci chiede Presidente, per piacere riconfermi Tesser. Alfonso Francesco Sementa, Tesser rimane? Ci chiede. Antonietta Marinelli, Presidente, riconfermi Tesser, faccio una squadra sulle sue esigenze e vedrà che ci divertiremo. Passo a un altro paio di commenti un po' più lunghetti. Gianluca Marano. Caro Presidente, ho letto in questi giorni di vari e presunti contatti con diversi allenatori. C'è già un'idea precisa su chi siederà sulla nostra panchina, la noventura, oppure sono discorsi prematuri. Inoltre nel mio piccolo le do un consiglio anche se non ne ha bisogno. Su chiunque cadrà la scelta, qualunque allenatore per affidare la nostra panchina, siate tutti ben chiari sugli obiettivi prefissati. Unde evitare il qui pro quo avvenuto quest'anno dove nessuno ha capito qual era il vero obiettivo. Lei stessa, ad inizio stagione, espresse la volontà di migliorare la stagione 2014-2015 nella quale raggiungemmo i play-off, per poi recedere nel corso della stagione dichiarando come obiettivo la salvezza. Buon lavoro Presidente e grazie per l'impegno profuso in questi anni. Mi fermerei qui, giusto per dare una panoramica iniziale sull'argomento Tesser. Tesser, Tesser, Tesser Attilio è un bravissimo allenatore, gran signore, grande uomo, ottimo allenatore. Questo sicuro, indipendentemente resta o non resta. Adesso faremo una piccola valutazione insieme ai direttori e insieme a lui. Vi do un piccolo scoop, domani sono a pranzo con lui, facciamo un pranzo che abbiamo sempre fatto ogni anno, quando c'era Rastelli e quindi per non rompere questa tradizione avremmo dovuto farlo prima. Poi sono successe queste incomprensioni, chiamiamole così, e quindi non abbiamo potuto farlo, ma credo che sia giunto il momento anche per ringraziarlo da parte mia, per tutto quello che ha fatto per noi, per l'Avellino, per la città, per la squadra e tutto. Quindi sicuramente commento positivo su Tesser. Tesser resta o meno, questa non è una decisione che prendo da solo, perché questa società è composta da due soci, è vero che una di maggioranza e una di minoranza, ma non c'entra niente. La cordialità che ho con Michele Gubitosa mi spinge sicuramente ogni volta a discuterne con lui, potrei farlo da solo, non c'è dubbio, però preferisco insomma essere, voglio dire, non democratico, essere proprio cordiale con Michele perché se lo merita ampiamente. È una persona che mi sta vicino, è sempre a disposizione, quindi credo che sia il minimo che io possa fare. E poi lo dobbiamo farlo con i direttori, perché se c'è stata qualche piccola incomprensione, certamente c'è stato sul fatto tecnico e non sul fatto, voglio dire, organizzativo o necessariamente dei risultati. Per cui è necessario che ci sentiamo intorno a un tavolo, alla fine del campionato faremo una valutazione serena, dicendoci da grandi uomini, da grandi professionisti loro e da un modesto presidente io, dovremo guardarci negli occhi e dirci qualcosa che non ha funzionato, perché evidentemente qualcosa non ha funzionato. Perché qualcosa non ha funzionato? Mi rilaccio anche alla domanda degli altri tifosi che hanno chiesto siamo chiari sugli obiettivi. Qualcosa non ha funzionato perché quando Tesser è venuto e abbiamo costruito prima di lui e con lui la squadra, quella di luglio, per il ritiro, ha sempre detto, e questo datemene atto o smentita, ha sempre detto che la squadra aveva un ottimo organico. E quindi avere un ottimo organico significa evidentemente avere qualche aspettativa, che non è necessariamente un obiettivo. Cioè l'obiettivo è, dico, io voglio fare i playoff, se non li faccio, come ho detto, per me è un fallimento. Il mio non era un obiettivo. L'obiettivo era quello di mantenere la categoria, il mio obiettivo, non quello della società, non quello dei direttori, non quello dell'allenatore, era fare i playoff. L'ho detto sempre detto, l'ho sempre detto. Era il mio obiettivo personale, da presidente. E' qualche cosa in alto che uno deve mirare per forza. Altrimenti il campionato è piatto, altrimenti fai 40 punti, ti senti quasi salvo, vengono meno, voglio dire, le motivazioni che poi spingono una squadra e l'allenatore e lo staff tecnico a cercare di migliorare in continuo. Quindi non è un ritorno indietro. Io ho sempre voluto fare i playoff, io. E l'ho sempre detto, e ci ho messo la faccia. Ho detto che per me è un fallimento personale, il mio, non quello di Tesser, né quello della squadra, né quello dei direttori. L'argomento iniziale era, ci dobbiamo salvare con possibilmente molte settimane di anticipo per cercare di non stare sui carboni. Perché sui carboni ardenti non ci siamo mai stati e avete visto che quando arriviamo ad un discorso di difficoltà, dobbiamo tirare fuori veramente gli attributi che i ragazzi hanno e che lo staff fa per venire fuori da situazioni incresciose. Non siamo abituati a lottare per questi risultati. E questa era la mia preoccupazione. Ecco perché io non guardo mai alla salvezza. Perché lottare per la salvezza significa avere una organizzazione completa che mira a salvarsi all'ultima giornata e all'ultimo minuto. noi non abbiamo mai avuto questa caratteristica e quindi io ero pericolosamente orientato a non arrivare a un discorso di questo tipo, a non pensarci mai. Per questo ho sempre detto noi dobbiamo guardare in alto. Ma era un fatto personale mio. Quindi credo di averlo chiarito perché l'ho detto dieci volte. L'obiettivo era mantenere la categoria. Quello del Presidente Taccone che guarda sempre in alto, che cerca sempre di migliorarsi come ho tentato di fare nella mia vita, non riuscendoci sempre, ma provandoci perlomeno, era quello di fare un campionato di medio-alta classifica. Ho sempre detto che volevo stare dalla parte sinistra della classifica. L'anno scorso l'ho detto, quest'anno non l'ho detto, ma evidentemente chi mi conosce sa che avrei voluto fare questo. Non ci siamo riusciti, mi dispiace. Chiedo ammenda di questa ai miei tifosi. Però l'importante è che poi l'anno prossimo, come sarà, decideremo all'inizio quali sono veramente gli obiettivi, senza fare fraintendimenti. L'anno prossimo l'obiettivo, lo dico prima, è il mantenimento della categoria. È l'unico obiettivo che prefiggerò sia all'allenatore Tasser, sia all'allenatore XY che dovesse venire, sia ai giocatori. Quindi non darò nessun peso emozionale, nessun peso che possa gravare evidentemente sulle motivazioni che hanno i giocatori. Li lasciamo tranquilli, li lasciamo lavorare. Ovviamente questo non significa che lotteremo per salvarci. L'obiettivo è la salvezza, cerchiamo di conquistarla quanto prima è possibile. Quindi in anteprima da Vellino TV, obiettivo del prossimo anno? Salvezza. Salvezza, aggiungo, salvezza con giovani. Ovviamente non andiamo a prendere con tutto il rispetto per l'Arcolanese, non so dove sta. L'Arcolanese è una bella squadra, anzi, ha vinto la campionata, la Fragoleso o altra squadra. Non è che andiamo a prendere ragazzi che stanno in categoria inferiori. Però dobbiamo andare a cercare giocatori, 97, 96, 98 perché no, giovani di qualità che possano emergere e possono fare in modo che l'Avellino possa fare degli investimenti sui giovani. E' uno di questi, è proprio Omeonga che sembra? Uno di questi è Stefano Omeonga, certo, che ormai ha già firmato con noi, non abbiamo ancora ufficializzato il contratto perché doveva finire le ultime partite con l'Anderlec, però il ragazzo già è pronto per noi e quindi potremmo già ufficializzare anche la sua... A titolo definitivo mi sembra. Assolutamente definitivo. Cioè questa è un'altra cosa perché mi avevano proposto altri giocatori in prestito con diritto di riscatto, però ho preferito prendere Omeonga perché l'abbiamo preso a titolo definitivo. Anche questo, scusatemi, è un ulteriore investimento da parte dell'Avellino. Certo, perfetto. Ecco, chiarito questo primo aspetto, io vado avanti se ci sarà qualcosa che si rivederà. Credo, giusto per finire, credo che abbiamo fatto un contratto di 3 o di 4 anni, insomma i ragazzi. Quindi un contratto importante pluriennale, perfetto. Presidente, procediamo. Gaetano Sicuranza le scrive, Presidente, in qualità di tifoso nonché abbonato, vorrei sapere da lei il motivo per cui Tesser non sarà confermato per la prossima stagione? Si spinge già avanti. No, ma assolutamente non c'è niente di deciso, lo posso dire con grande guardando negli occhi i miei tifosi con cui sto parlando, non c'è niente di deciso. Se perché non è riuscito ad arrivare al decimo posto in classifica e perché l'avete esonerato e non ha guidato i lupi per 5 partite, ma il motivo della società non era prima uomini che calciatori e dirigenti, per me Tesser si è dimostrato un signore, ha espresso un bel gioco nonostante la difesa, si è rivelata a dir poco mediocre, la peggiore dopo il Como. Allora qual è il vero motivo del suo eventuale allontanamento? Ecco siamo già sull'eventuale. Io ho sempre difeso Tesser e anche nei momenti di difficoltà non ho mai chiesto la sua testa. Per me resta un signore di un ottimo allenatore, credo proprio che l'anno prossimo non farò l'abbonamento. Questa mi sembra una chiusura abbastanza forte. Gatano, sicuranza, se vuoi aggiungere qualcosa, andiamo avanti? No, sicuranza, mi dispiace che tu non venga a vedere la partita, però certamente noi non falliremo per questo abbonamento perso, cercheremo di farne qualcun altro in più. Rispondo sul tuo discorso difesa. Ragazzi, quando si fa una squadra, si fa una squadra composta da 24, 25, 26 elementi. Se qualcosa non funziona non è certamente la difesa, perché da che mondo è un mondo? La difesa deve essere protetta. Allora è inutile che ce la prendiamo sempre con la difesa. Allora sono tutti scarsi i difensori? Non credo, perché faccio un esempio. Nytriasky che se ne è andato, sta facendo benissimo dove è andato. Allora vogliamo prendere in considerazione che può darsi, non sono state messe in condizioni di rendere al massimo? Questo nessuno lo dice. Però io non è che butto croce addosso a nessuno. Ma quando si fanno le valutazioni, è che si può dire che uno ha fatto bene e poi ci accorgiamo che prendiamo 60 gol. Qua cosa funziona? Ragazzi, non siamo sciocchi. Cioè che Biraschi lo vogliono squadre di Serie A, che è un nostro difensore. Che Marco Chiosa è uno dei migliori difensori l'anno scorso. Che Visconti tutti lo aspettavamo come il Messia dopo che si è rotto la spalla e così via. Questi sono dati rifatto. Questi ragazzi sono diventati brocchi all'improvviso o non sono stati messi in condizione di rendere al massimo? Questo non è che sono valutazioni tecniche. Io non mi arrischio assolutamente a fare valutazioni. Però questo bisogna considerarlo. Il nostro centrocampo, che l'anno scorso era l'anima del nostro centrocampo, non è andato probabilmente a mille. Anche qui ci sarà un motivo. Ci sarà qualche ragione tecnica che io non affronto. Però questo è il discorso. Non è che la difesa è scarsa, l'attacca è buona perché ha fatto tanti gol. Non è così. La squadra è composta da giocatori che devono essere amalgamati uno rispetto all'altro. Perfetto. Vincenzo Alfano, Castel San Giorgio. Presidente, grazie per la categoria. Però quando iniziamo pensiamo prima alla salvezza, così i calciatori sono già abituati a lottare e studiare la maglia. Non servono calciatori di nome per fare abbonamenti. Ma gente che ha fame di arrivare nel calcio che conta prima salvarsi e quello che viene dopo si vedrà. Voliamo a Bassi per arrivare in alto. Perfetto. Questo è assolutamente vero. Questo ha detto bene. Cercheremo di non inseguire più i nomi. Anche perché, devo dire la verità, questo faccio me a colpa. Ogni volta che abbiamo inseguito un nome, abbiamo inseguito, vi ricordate che stavamo in Serie C, abbiamo inseguito Correa e sapete che fine ha fatto. Il centrocampista bravissimo, dotato di grandi qualità, però purtroppo è venuto qui, si è dimenticato di fare ricordare. Una maledizione. Si è dimenticato il suo palmaresse. È venuto Romulo Togni, l'abbiamo preso dalla Serie A, doveva essere il giocatore che doveva cambiare completamente la nostra compagine e sapete come è andata a finire. Prendemmo l'attaccante, quello pelato, adesso non mi ricordo il nome, qualche anno fa che segnava sempre, Soncin, è venuto Ravellina, ha fatto un gol o due gol, si è dimenticato di segnare. Abbiamo preso il capocannonico della Serie B, Ciccio Davano, e non sta andando bene. È una maledizione. Forse siamo sfortunati con i grandi giocatori, con i grandi nomi. Perfetto, perfetto. Maurizio Biondi, presidente tifoso, la definisce. Volevo ringraziarla per tutto quello che ha fatto in questi cinque anni. Le chiedo se Toscano sarà il nuovo allenatore dei Lupi 2016-2017 e se Biraschi va via. La saluto è sempre Forza Lupi. È abbastanza dettagliata. Non so niente di quello. L'ho letto sui giornali di questo allenatore. So che probabilmente c'è qualcosa, non solo con lui o con altra gente, ma ci stiamo guardando intorno perché se non decidiamo prima con Attilio cosa facciamo, mi sembra veramente sciocco andare ad interessarsi di altre cose. Sono dei pur parlay per vedere se c'è naturalmente la disponibilità e se naturalmente gli ingaggi sono all'altezza di quello che può fare l'Avellina. Ma è solo un pur parlay. Per adesso ci teniamo il nostro allenatore Tesser che sta con noi, che gode la mia fiducia e gode la stima, come vedo anche di molti della piazza, per cui siamo contenti come stiamo. Quindi non c'è niente di deciso. Biraschi va in Serie A. Eh, Biraschi va in Serie A. Se arrivano con un fascetto di soldi in mezzo ai denti può darsi. Io credo di no. Credo di no perché ha fatto solo un anno con noi e io credo che la cosa migliore sia tentare di fargli fare un altro anno e farlo maturare ulteriormente. Questo può essere utile per la causa Avellino, come gioco intendo, può essere utile per la causa Avellino nel momento in cui dovessimo andare effettivamente a venderlo. Perfetto, perfetto. Allora ci spostiamo un po' su argomenti futuri, un po' di considerazioni. Tony Raffaele, cerchiamo di non commettere gli errori di quest'anno con acquisti sbagliatissimi e per niente funzionali al modulo dell'allenatore. La squadra in primis deve farla il mister. Tony Raffaele. Ma questa è una definizione che è completamente errata nel mondo del calcio. L'allenatore non fa la squadra, nella maniera più totale, da nessuna parte. Forse qualche esempio importante, l'allenatore sceglie un giocatore di nicchia, un giocatore che gli serviva. Faccio un esempio. Quando è venuto a Tesserci ha chiesto di prendere Cavazzi e sono felicissimo che ce l'ha fatto prendere, perché è un fedelissimo suo. Allora può succedere che per uno o due giocatori uno abbia una predilizione, e questo è normale. Ma se la squadra la fa il mister, io devo licenziare il direttore sportivo e il direttore generale. Mi licenzi pure io, calcio solo i soldi, faccio la sponsorizzazione all'avellino, facciamo che il nuovo allenatore, o l'allenatore che resta, se fosse a Tesser, fa lui la squadra, e io gli do solo i soldi e fa tutto a lui. questo è ridicolo, ragazzi, non è così, il calcio non è così, il calcio è un'altra cosa. E poi funzionali, voglio insistere anche su questo discorso funzionale, non vi dimenticate che noi abbiamo la cattiva abitudine, quindi su questo prendo spunto da quello che mi ha detto questo signor Raffaele. Tony Raffaele, effettivamente è così, forse siamo un po' troppo frettolosi a prenderci i giocatori, perché quando ci piace un giocatore, alla fine del campionato in corso, gli altri anni correvamo già per accaparrarci, diciamo, un certo giocatore, eccetera. Poi poteva succedere, e di esempio Nitrianski, che è stato scelto perché, ovviamente Massimo Astelli doveva restare con noi, e lui ha scelto una serie di giocatori importanti e funzionali per il suo modulo, e li abbiamo presi, e ce li siamo trovati sul gruppone, scusatemi, cioè senza dare colpi a nessuno, per carità, lungi da me, però quando si fanno degli errori, questi errori devono essere anche da parte nostra giustificati, per cui quando prendi un giocatore alto, che non è abituato a difendere, ma è abituato ad offendere, lo metti ad una difesa a quattro, o una difesa che deve difendere, evidentemente hai bisogno di tempo per fargli maturare questi movimenti, non vi dimenticate Zappacostra, quando è venuto, lui era un esterno alto, l'abbiamo adattato a terzino, all'inizio faceva, scusa il mio amico Zappacostra, Davidino, Davide Zappacostra, Davide, te lo dico in televisione, all'inizio facevi ridere come terzino, adesso sei un grande giocatore, sono contento, quindi dobbiamo dare meriti a chi ti ha scelto, i direttori, a chi ti ha plasmato come giocatore, poi chi ti ha lanciato nel mondo che conta, però il calcio è fatto così, quindi non sono sempre errori dovuti alla presidenza o alla direzione. Perfetto, Pietro Di Santo, un amico di Caserta, carissimo Presidente, lei è un sanguigno, è ottimista di natura proprio come lo sono io, chiamo l'Avellino da quando avevo circa nove anni, considerando che oggi ne ho 48, appunto per questo sarò sempre grato, per quello che ha fatto, che fa e che farà ancora in futuro, ma è arrivato il momento di osare, anche se affari spenti e senza tanti proclami, osare portare questa città e questa provincia nelle rite del calcio, quello che conta veramente, grazie e proviamoci. Pietro Di Santo da Caserta, che ci ha annunciato alla nostra televisione che l'anno prossimo si abbonerà, lui da Caserta non può seguire l'Avellino, il prossimo anno si abbonerà allo Stato. No, io su questo insomma non posso che essere d'accordo con lui, nel senso che dati gli obiettivi della stagione prossima è chiaro che poi io personalmente non credo nessun altro, ma io guarderò sempre la classifica in modo diverso da quello che in genere dobbiamo fare, stando attenti ai risultati, però questi sono, se mi consentite, ragazzi, questi sono sogni che Presidente non potete impedire, cioè se fosse un sogno pindarico o fosse un sogno irrealizzabile e allora dice Presidente, vola basso perché non hai la squadra giusta, non hai gli uomini giusti, non hai l'organizzazione giusta, quindi avreste ragione, però se riusciamo a fare, insisto, una squadra giovane che corre, perché in serie B ricordatevi che vince chi corre, poi ci sono le punte di diamante, quello che segna, quello che ti salva i gol, quello che è giusta al centrocampo, sono belle realtà, però nel calcio vince chi corre, esempio classico, qualche squadra importante che sta nei primissimi posti della classifica, a un certo punto si è fermata per 7-8 risultati di seguito, non vinceva più, perché quando non corri, tutte le squadre ti possono mettere in difficoltà, quindi una volta fatto questa compagine giovane agguerrita, cercheremo innanzitutto di salvarci presto, e poi, non parlate dei 50 punti, ragazzi, ve lo dico prima, non voglio sentire sto numero, perché ce l'ho proprio, ce l'ho in fronte, con i 50 punti, fatemi la gentilezza, diciamoci che dobbiamo salvare, ma non parlate dei 50 punti. Bene, bene, allora Gianni Nizzo, Gianni Nizzo, scelga allenatore, programmate subito per essere pronti al ritiro, e per favore, i terzini non sbagliate ancora, sembra che ci sono. Eh, questo non c'è dubbio che il nostro parlo, però insomma, da come ho detto, quello che ho detto in precedenza, deve essere da spia su quello che andremo a fare, cioè sceglieremo le punte, come devo dire, i punti cardine, che quest'anno ci sono venuti un po' meno, li dovremo scegliere dopo che abbiamo scelto evidentemente la conduzione tecnica, se resta Attila, Attila mi dovrà dire, pensare, voglio giocare in questo modo, mi dovete dare giocatori funzionali a questo modo, e con queste caratteristiche, sceglieremo i giocatori, ma lo faremo questo, sicuramente a fine giugno, i primi giorni di luglio, prima del ritiro, sicuramente. Perfetto, Emilio Faso, li vogliamo conoscere i programmi, non solo giocatori per valorizzarli e poi venderli, noi vogliamo una società che si rispetti, e non un giocatore come Trotta, gestito male. Emilio Fasoli. Un'altra volta, Emilio, mamma mia, ma allora, c'è qualcuno che mi accusa che sto sempre in televisione, o sui giornali, non è così, insomma, noi abbiamo fatto, voglio chiarire questo discorso di Trotta ancora a te, forse che non mi hai seguito in precedenza, Trotta è venuto ad Avellino, con un solo obiettivo, è venuto a gennaio per andarsene a giugno, del primo anno, questo era l'obiettivo, detto io vengo, vi do una mano, cerchiamo di fare bene, cerco di fare dei gol, ma il mio obiettivo è che vengo ad Avellino con l'intento di andarmene a giugno dell'anno scorso, non a gennaio. l'abbiamo trattenuto, si è trovato bene, ma quando sono cominciate ad arrivare le prime sirene della Serie A, il ragazzo evidentemente, non è che non è capito più niente, si è fatto, diciamo, abbindolare da queste voci, nonostante io gli avessi detto, guarda, io sono disponibile a farti andare in Serie A, da subito, però resta con noi fino a giugno di quest'anno, questo è il mio obiettivo, non c'è stato nessun verso, non c'è stato niente da fare, ma non per il ragazzo, perché l'entourage che aveva intorno, lo ha convinto che lui andava a giocare nel Sassuolo direttamente a gennaio, io glielo avevo detto, stai attento, perché il Sassuolo ha quattro attaccanti, non uno, vai a fare il quinto attaccante e non giocherai, facendo le corna, sono stato un facile Vate, perché così era la situazione, ed era difficile non capirla, però io capisco il ragazzo che aveva voglia di andare a giocare in Serie A, ha avuto un ingaggio importante, per cui che dovevo fare? Dovevo fare come, dovevo tenerlo qui contro le proprie volontà? Ragazzi, il calcio è fatto di motivazioni, c'è uno bravissimo che non ha motivazioni, è meglio allontanarlo e prenderne uno meno bravo, ma che ha le motivazioni giuste, il calcio è così. Andiamo avanti, Noemi Biondi, Presidente, in primis volevo ringraziarla per tutto ciò che ha fatto e che farà per la nostra squadra, le vorrei porre alcune domande, Gio Silva verrà riconfermato l'anno prossimo, De Vito rimarrà con noi, e poi che percentuale c'è di riconferma per Tesser? Grazie mille, forza Lupi, Abbiamo già detto ringraziamenti a nessuno, perché non sto facendo un interi strano, sto facendo quello che la gente aspetta da me, da un Presidente, cioè fare in modo che la squadra non sia mai in difficoltà, fare in modo di rispettare i ruoli, fare in modo di pagare gli stipendi e i contributi ai ragazzi, fare in modo di pagare evidentemente tutte le altre spese accessorie, senza lesinare nulla nel momento in cui lo dobbiamo fare, quindi questo è il mio dovere, quindi non mi dovete ringraziare per questo, perché uno che sceglie di fare questa attività, sa bene quali sono i ritorni, nessuno probabilmente, gli impegni e gli oneri, che sono quelli dei quali voi mi date merito, ma io non merito niente, cioè nel senso che faccio quello che devono fare i Presidenti, che vogliono fare i Presidenti di Serena, quindi questo è tutto. Per quanto riguarda Gioho Silva, Gioho Silva ha un contratto con noi fino a giugno, valuteremo, perché insomma mi sarei aspettato di vederlo in campo un po' più spesso, cioè come fai a decidere ora con Gioho Silva, che è entrato in campo probabilmente due partite e mezzo, tre partite su 20-18 che ne abbiamo fatte, quindi è difficile dare un'interpretazione di questo tipo. Io ne ho sempre parlato bene di Gioho Silva, secondo me è un ottimo giocatore, che può essere funzionale per l'Avellino, però anche qui per poter decidere se trattenerlo o meno, dovremo discutere con l'allenatore, con Attilio, o chi sarà, insomma io mi immagino Attilio, a fine campionata vediamo cosa succede, quindi non posso dire resta o non resta, insomma perché non è che decido io queste cose, decidiamo coralmente insieme allo Stato. Deve essere funzionale, giusto? Deve essere funzionale al modulo. Enzo De Vito. Enzo De Vito, ho detto che Enzo De Vito è un mio figlio, dove va? È come se il mio figlio se ne andasse. O direttore generale, dove va? Quella è mia figlia. Dice ho avuto delle sirene, mi vogliono a Milano, dico una sciocchezza insomma. Dove vai? Ho detto, ti devo disederare, disederare. Quindi è la stessa cosa con Enzo, io penso di no. Penso è bravissimo, è una persona squisita, poi è un ragazzo d'oro, un gran signore, per cui io ho sempre detto, non è la prima volta che lo dico, che a parte gli anni di contratto che lui ha, lui è innamorato della sua terra, è innamorato di Avellino, e per poter andare via d'Avellino devono succedere due cose in contemporanea. La prima è che non sono più io il Presidente. La seconda è che evidentemente gli fanno un'offerta faraonica per la quale lui decide di rispostarsi di Avellino con la famiglia, ma avendo una figlia piccola ed avendo attività qui locali ed essendo, ripeto, un innamorato e un tifoso dell'Avellino, credo che questo non succeda. Io non ho nessuna voglia di andarmene, quindi credo che difficilmente questa cosa si possa verificare. E poi anche altri due anni di contratto, il che non è... Ho detto prima, anche due anni di contratto, quindi assolutamente. Perfetto. Questione stadio, Presidente, abbiamo due osservazioni, e due domande. Stadio attuale? Beh, allora, progetto nuovo stadio, a quando un'eventuale presentazione del plastico? Nicola Lettieri, su Twitter questa domanda. Presidente, nessuna novità sullo stadio e sul partenio B? Allora, sul partenio B rispondo questo che è più facile. Il partenio B doveva entrare nella convenzione che avremmo dovuto non rifare, prolungare. Ma da sempre lo stadio B è lo stadio di allenamento della prima squadra. Poi per un certo numero di anni è successo quello che è sulla bocca di tutti e che sapete benissimo, insomma, gestione di altre persone, di altre squadre, così via, eccetera. È un aborto questa cosa, perché è improponibile che accanto allo stadio principale ci sia un secondo campo, praticamente, che non viene utilizzato dalla squadra che gestisce la formazione, la prima formazione. E quindi, che devo dire? Era già previsto. Poi, questa cosa si è allungata con i tempi, sapete di questa benedetta delibera di dare avere che è stata sancita, è stata firmata da tutti, ma non si riesce a portare in consiglia, non so perché. Questa è la situazione. Quindi, con questa, scusate, non voglio parlare male di nessuno, perché io sono di Avellino e fra l'altro le persone che stanno al Comune sono quasi tutti i miei amici, ma con questa amministrazione che non ti fa una delibera dopo un anno e dopo sei mesi che tutti l'hanno rivivata, tutti i direttori, tutti i dirigenti, non ti fa state libera, ma dove volete andare? Ma cosa vogliamo fare? Cioè, rendetevi conto che qualunque cosa uno voglia fare, faccio un esempio, e questo valga per tutti e valga come campanello di allarme, abbiamo contattato un gruppo importantissimo, italiano, il quale ha detto non ne parliamo proprio, per i precedenti che abbiamo con l'amministrazione di Avellino noi non vogliamo fare niente, eppure la gente che aveva messo a disposizione le proprie qualità, il proprio nome, il proprio danaro per fare un atti con noi, sto cercando di riconvincerli, perché ho detto non di preoccupare quello che è successo in altri posti, in altri posti, Avellino è provincia, non si verificherà qua l'Avellino perché lo stadio è un'altra cosa, i tifosi ci danno una mano, l'amministrazione può essere più disponibile, questo per far capire che per fare lo stadio non è soltanto l'Avellino, ci vogliono delle componenti insieme all'Avellino che possano concorrere a questa spesa enorme per rifare lo stadio come lo obiettiamo noi, perché fare lo stadio così com'è, buttarlo a terra e farlo in laminato, non ci vuole niente, ma non è questo quello che ci aspettiamo, noi ci aspettiamo uno stadio nel quale è possibile vivere sette giorni su sette, nel quale far giocare le squadre giovanili prima della prima squadra, io quando ero ragazzo giocavo, giocavo nella De Martino, giocavo a Genova e quindi prima che giocavamo la Sampdoria o a Genova giocavamo noi, allora le persone venivano allo stadio, venivano a dire i ragazzi che giocavano prima della prima squadra e con lo stesso biglietto si vedevano le due partite, venivano prima, allora non c'erano i ristoranti ovviamente negli stati, però si portavano le colazioni, insomma, è una vita molto più dinamica da un punto di vista sportivo, se poi ci mettiamo dentro il centro commerciale, la foresteria, l'albergo, bingo pallino, diventa una cosa seria e diventa un'attività veramente che potrebbe dare degli utili anche agli investitori, perché io se devo prendere un investitore non posso dire vieni qui e tira fuori i soldi a perdere, questo lo posso fare io che sono il Presidente della società, ma si chiama un investitore quello che vuole investire e vuole guadagnare, guadagnerà un euro, due euro, ma viene qui per fare in modo di non buttare il suo danaro, allora dobbiamo fare in modo che le componenti siano tutte, devono rimare tutte nella stessa direzione, se cominciamo a creare i primi ostacoli sulla presentazione della lettera di interesse o sul progetto iniziale, eccetera, queste persone scappano via, non possiamo fare nulla, non dipende assolutamente solo ed esclusivamente da me. Perfetto, allora ci spostiamo su una domanda su Tavano, Francesco De Masi, innanzitutto, salve Dottor Taccone, oltre ad essere un grande tifoso del Laverino sono anche un grande fan di Tavano e se non sbaglio anche lei, ricordo una frase durante un amichevole se si sblocca Ciccio diventerà un ira di Dio, tutti si aspettavano da lui diverse prestazioni in campo e un bel bottino di rete a fine campionato, malgrado avesse svolto una buona preparazione fisica a Sturno segnando ripetutamente nel precampionato, gli infortuni non hanno fatto altro che condizionarlo per tutto il campionato. Io ricordo un suo arrivo trionfale ad Avellino ma molto spesso e questa è una piccola critica che rivolgo al tifo, non siamo in grado di sostenere i nostri giocatori apostrofandoli malomodo al primo errore. Dato che credo assolutamente che un giocatore come lui sia venuto ad Avellino per poter far bene e lasciare un ricordo anche al sud del grande giocatore che è, lei crede che potrebbe proseguire onorando il suo impegno preso ma soprattutto avere una possibilità per riscattarsi anche con una diversa formula contrattuale legata alle prestazioni. Francesco De Masi. Ciccio ha un altro anno con noi quindi abbiamo fatto un biennale l'anno scorso il primo anno è questo l'anno prossimo quindi dovrebbe restare con noi. Devo dire che l'ho visto molto sfiduciato io cerco ogni tanto di coccolarmelo ogni volta che lo vedo ricorderò sempre la sua aria triste quando siamo andati ad Ascoli. prima della partita io ero lì con lui lui era da solo dietro la porta prima mentre i ragazzi sgambettavano poi facevano il primo riscaldamento lui era lì ed era moggio a moggio messo in disparsa sono andato ho detto Ciccio ma che c'è c'è qualcosa che posso fare per te per darti una mano ma lui è sfiduciato del fatto che non riesce a rendere quello che vorrebbe fare e fra virgolette credo non l'ha mai detto ma credo che sia il primo critico di se stesso quindi quando gli facciamo delle critiche o gli fanno delle critiche addosso doppiamente ne risente perché è lui stesso che non è contento di quello che fa e quindi l'ho visto proprio non demotivato l'ho visto demoralizzato cerchiamo di dargli una mano a Ciccio vediamo quello che è capace di fare perché insomma le qualità sono quelle che sono è stato un grandissimo giocatore quindi è impensabile ed improponibile che si sia dimenticato di segnare il problema è che ha avuto una serie di acciacchi e quando si acciacchi li ha un ragazzo di 18 anni il fisico reagisce in un modo quando ce l'ha uno che non ha più 18 anni senza dire l'età è chiaro che reagisce diversamente quindi dobbiamo prenderne atto di questo sicuramente comunque ripeto a un altro anno di contratto con noi anche con lui ci sederemo insomma essendo un gran signore essendo una persona per bene ed essendo uno a cui ho fatto una corte spietata per portarlo qui ad Avellino e lui se lo ricorderà bene telefonate al mare a lui la moglie eccetera a tre novembre è stata perfetto allora Pino Capozzi un amico del club di Cambiano ho letto di una sua apertura circa l'eventuale conferma del mister e trova questa cosa un'ulteriore prova di maturità di questa società che seppur commettendo qualche normale errore umano mai ha vissuto di improvvisazione la domanda che vorrei fare riguarda il settore giovanile non crede sia molto importante e strategico per una società come l'Avellino pensa anche lei come me che vada rifondato ricostruito e gestito meglio può essere la nostra miniera d'oro Pino Capozzi per fare il settore giovanile ci vogliono le strutture ragazzi non si possono fare quest'anno l'anno prossimo avremo cinque squadre ufficiali più pulcini esordienti oltre la prima squadra cioè diventa una cosa enorme dove li faccio allenare sta gente cioè noi non abbiamo campi non abbiamo alberghi non abbiamo foresterie non abbiamo niente come si fa a fare un settore giovanile di questo tipo devo dire che per anni ho resistito alle lusinghe di tecnici che sono venuti da fuori alcuni sono venuti addirittura dall'Emilia hanno delle accademie insomma in altre regioni eccetera accademie dello sport del calcio naturalmente che volevano riproporre questo discorso ad Avellino ho tentato disperatamente di lasciare qui ad Avellino il settore giovanile delegando e non affidando attenzione delegando persone che mi erano state presentate che potevano pensare o potevano farmi credere di potermi fidare le cose non sono andate completamente bene lo sapete abbiamo una serie di fastidi oggi sul mattino è uscita un'altra cosa è uscita insomma su un eventuale riferimento a taccone ma scusate ma non voglio dare colpe a nessuno ma nel momento in cui noi portiamo le squadre a Lacedonia facciamo l'esempio di Lacedonia ma perché ci capiamo perché non dobbiamo nasconderci dietro al dito io sono abituato a guardare i miei tifosi in faccia e dire quello che penso quando questi segni quando abbiamo portato la primavera insomma erano due o tre squadre non mi ricordo due o tre squadre a Lacedonia è stato perché l'istituzione di Lacedonia il sindaco il consigliere eccetera hanno messo a disposizione loro non io loro hanno messo a disposizione quel collegio non mi ricordo che cosa era insomma la struttura dove praticamente dovevano andare i ragazzi hanno detto pensiamo noi non vi preoccupate facciamo parlare direttamente i genitori con i ristoranti cioè allora impostate in questo modo la cosa di che cosa è responsabile il presidente dell'Avellino se l'amministrazione comunale avrebbe dovuto vigilare come in effetti questo doveva fare ma senza dare colpi a nessuno non sono abituato io a scaricare le mie colpe o le mie responsabilità sugli altri ma è chiaro che la Lacedonia non è a due passi se abbiamo deciso di portarli a Lacedonia perché ci hanno detto a noi interessa per il fatto delle scuole per il fatto di rivitalizzazione per il fatto anche dell'accoglienza bellissima per carità che ci hanno fatto tutti i cittadini di Lacedonia però pensavo che qualcuno poi controllasse quello che succedeva se i ragazzi e voi non sono stati controllati ma certamente non è il presidente della squadra non è che va a controllare questi dove vivono come vivono cosa mangiano qualche mangiano poi ci arrivano richieste di danaro arrivano richieste a noi di danaro da parte di ristoranti cosa cedere io ho sempre detto l'ho detto le forse si ricorda ho detto all'inizio del campionato il settore giovanile le persone che vanno fuori i genitori devono portare i figli a giocare dove ha la sede in quel momento la squadra in questione Lacedonia Lacedonia è troppo lontano li vogliamo lasciare in albergo pagatevi l'albergo perché io non voglio niente nessuno di noi ha mai chiesto un euro a nessuna di queste persone pagatevi la retta da dentro e lo tenete lì tranquillamente ma anche a scuola il comune aveva messo a disposizione dei pulmini per portarli avanti e indietro poi questo è successo o non è successo la gente andava a piedi ma scusate ma io che responsabilità posso avere di questo discorso allora non è che voglio scansarmi va bene crocifiggiamo il presidente perché non ha vigilato perché doveva stare con le spie con le telecamere con i cellulare insomma ragazzi finiamola con questa storia il discorso giovanile deve essere fatto da gente che fa il calcio allora credo che l'anno prossimo probabilmente credo e probabilmente affideremo fra virgolette perché la responsabilità è sempre la mia a qualcuno che è il patentino di poter fare il responsabile del settore giovanile quindi a un tecnico affideremo alla gestione di due o di tre o di quattro di queste squadre però questa volta vigilando su quello che succede però ci affideremo a gente che è consolidata nel mondo del calcio non lo volevo fare volevo cercare di tenere qui ad Avellino con gli avellinesi questo discorso se è difficile da fare mio malgrado sarò non costretto sono orientato a fare in modo che i ragazzi vengano seguiti da professionisti di questo sport e quindi probabilmente faremo un affidamento non so se sono stato abbastanza chiaro non è che delego a loro però faccio in modo che sotto la nostra sorveglianza poi vengano gestiti queste squadre giovanili da gente del mestiere perché fra l'altro non posso neanche pensare che il mio direttore sportivo possa essere deferito insieme a me per cose che non ci interessano che non abbiamo mai visto non abbiamo mai fatto ahimè forse fidandoci troppo evidentemente delle persone di altre persone va bene ci avviamo alla conclusione Sabatino Faggiano perché puntualmente ad ogni sconfitto ad ogni periodo negativo viene sempre buttato in mezzo come una cambiale il fatto che ci ha portato dalla D alla B quanto ancora ci deve essere rinfacciato non mi sembra che lei abbia non l'ho mai detto per la verità lo voglio dire una volta per tutte come si chiama? Sabatino Faggiano Sabatino Faggiano sia gentile lei che sia amico di qualche giornalista si faccia dare un'intervista mia nella quale io ho detto ho portato la squadra dalla D alla B non l'ho mai detto mai neanche una volta siete voi che lo dite i tifosi e i giornalisti io non è un merito per me assolutamente che di aver portato la squadra dalla D alla B perché se poi decidiamo dalla B e andiamo in quarta serie alla D che succede? quindi so bene il calcio come è fatto quando vinci sei bravo quando verdi sei un credino che non capisci niente e quindi purtroppo insomma è una realtà del calcio lo so bene questa cosa però sono vaccinato su questo per questo mi trovate sempre pronto e guerrito perché partono dal presupposto che questa è la realtà del calcio quindi lo so prima cerco di vincere per restare in una mediocrità accettabile e mi distrae a perdere perché nella mia vita difficilmente ho perso e difficilmente voglio perdere e nel calcio è la stessa cosa quindi se perdo so bene che fine faccia bene bene Saverio Adonizio Club Venticano Biancoverde ringrazio la società per la Serie B ma parlare chiaro è fatto per le persone per bene che Taccone e company reputo la Serie B ci va bene è necessario non creare illusioni la Serie A resta un sogno se poi insieme a Taccone Cubitosa ci sarebbe qualcuno che potrebbe fare in modo che il sogno diventi realtà benvenga Forza Lupi Saverio Adonizio ma noi il target scusatemi ragazzi purtroppo noi siamo abituati troppo bene al calcio siamo abituati alla Serie A siamo abituati a quei benedetti non maledetti per carità benedetti dieci anni di Serie A ma erano altre condizioni erano altre situazioni la squadra della Serie A se qualcuno prendeva a calcio un giocatore o non gli pagava lo stipendio o gli prometteva una cosa non gliela dava a voce nessuno diceva niente oggi non puoi più fare questo e non è un problema di soldi che sono importanti perché potremmo pure prendere qualcuno che viene da fuori ci dà una mano ma siamo certi poi che mettendo più soldi vinciamo e andiamo in Serie A se fosse così tutte le squadre potrebbero fare questo perché molte delle squadre in questo anno di campionato di Serie B avevano molti più soldi dell'Avellino da poter spendere eppure non credo che siano andati tutti in Serie A quindi non è così ragazzi dobbiamo guardarci in faccia e dire in questo momento la situazione economica della nostra provincia non dell'Avellino Calcio della nostra provincia è tale da poterci consentire una squadra in Serie A io credo che già una squadra di Serie B non sia un miracolo sia difficile fare in modo che resti in Serie B per tanti anni il mio obiettivo ovviamente lo sapete è quello di restare in Serie B mai quello di scendere in Lega Pro questa è come definizione mia sapete benissimo che se dovesse succedere una cosa di questa io lascerei il calcio la regalerei la squadra non voglio niente se devo scendere in Lega Pro ma non vado in Lega Pro l'ho detto all'inizio ti ricordi probabilmente che ho preso lo stemmio della Lega Pro non l'ho buttato perché non è corretto fare così perché le cose che si fanno prima non si devono dimenticare l'ho messo in un cassetto e ho detto tu stai qui poi ogni tanto ti vengo a guardare però insomma non sono assolutamente interessato a quello stemmio della Lega Pro va bene le domande dei tifosi sono ultimate adesso ve la faccio io una domanda se mi è consentito da parte dei tifosi che hanno animato questa chiaccerata campionato verso la conclusione si cercherà magari come l'anno scorso di riportare la squadra in provincia a contatto con i tifosi con i club che programmi ci sono in tanti il programma è questo noi dovremmo finire il giorno 20 se mi ricordo bene il nostro campionato venerdì 20 più o meno dal 20 in poi ovviamente con venerdì sabato e domenica i ragazzi saranno lasciati liberi forse anche lunedì poi da martedì si riprendono ad allenarsi perché non posso assolutamente fare in modo insomma di lasciare i ragazzi al 20 22 23 di maggio e riprendere il 17 di luglio dopo due mesi di fa virgolette di bagordi giusti voglio dire giusti comprensibili cioè ci troveremo gente che poi dopo dobbiamo farle camminare con i sacchi addosso per fargli smaltire le tossine che andranno ad accumulare quindi non mi sembra giusto non mi sembra corretto per cui i ragazzi continueranno ad allenarsi due o tre volte alla settimana e poi ogni settimana andremo a fare queste famose amichevoli di cui avevo tanto parlato all'inizio con lo stesso Attilio Tesser l'avevo pregata avevo detto guarda guardiamo ogni settimana portiamo la squadra in provincia perché la provincia è il nostro polmone di tifosi che ci guardano ci seguono ci analizzano ci stimano ci picchiano e così via fanno tutto e quindi probabilmente credo che dovremmo andare sia a Teora dove dovrebbe inaugurarsi un club e mi scuso con il presidente del club di Teora perché sono un paio di mesi che ci ha invitato e spero che non l'abbia già inaugurato se no andiamo allo strista a Teora andiamo a trovare questo nuovo club di affezionati e poi un'altra forza trasferta la facciamo a Cervinare sono già quasi stabilite queste due una terza andremo a vedere dove poterla fare quindi per tre settimane sicuramente fino al 10-11 di giugno i ragazzi restano qui con noi allenandosi ovviamente non allo stremo delle forze ma tenendosi in attività e quindi cercheremo di portare la squadra in provincia dopo l'11 giugno faremo delle valutazioni sulle persone che hanno ancora diritto ad usufruire di ferie e così via e quindi un po' per volta andranno via chi andrà via per 7 giorni chi per 10 chi per 12 vedremo come fare per fare in modo di far fruire le loro ferie come è giusto che sia in modo da riaverli quelli che ritorneranno per l'anno prossimo di averli belli pimpanti in forma e sempre più vogliosi anzi ancora più arrabbiati perché li faccio stare qui a giugno e non li mando in ferie bene Presidente grazie siamo giunti alla conclusione di questa intervista speciale grazie per la disponibilità grazie ai tifosi per tutte le domande che ci hanno fatto spero di essere stato abbastanza chiaro faremo una conferenza stampa ovviamente come tutti gli anni all'inizio non all'inizio del campionato ma all'inizio della preparazione forse anche prima in cui ribadirò quello che ho detto oggi perché non è che cambierò idea quella di avere una squadra di giovani di talento ma contemporaneamente che hanno voglia di emergere quindi di far portare in alto il nome dell'Avellino e di farlo risuonare dove è possibile nel prossimo campionato di Serie B senza aspettative zero ci dobbiamo salvare all'ultima giornata proprio no alla penultima giornata all'ultimo minuto l'ultima no perché sennò il mio cuore insomma potrebbe soffrirne troppo arrivederci a tutti e auguri ragazzi a Grazie a tutti.